Andiamo da Zurigo a Basilea. Qui l'Uruguay, i campioni in carica, incontrano la Scozia. L'Uruguay ha sconfitto la Cecoslovacchia 2-0 nella prima partita e la Scozia ha perso contro l'Austria. Sarà molto difficile tenere a bada gli uruguayani. La Scozia fa la prima mossa, ma successivamente è l'Uruguay a dominare. Ecco il primo gol, un bel tiro di Borges dalla sinistra. E questa è la seconda rete realizzata da Miguets. Si va a riposo. Sentiamo un po' di musica, ma gli scozzesi non sono di buon umore. Nel secondo tempo la difesa scozzese verrà completamente disfatta. I giocatori dell'Uruguay sono abilissimi. Sono tutti giocatori eccellenti. È una vittoria corale. Altri tre gol nei seguenti cinque minuti. Borges segna il primo, Abadie il secondo e di nuovo Borges. A Miguets tocca il gol numero sei. C'è Abadie a destra. Un bellissimo gol dell'ala destra che si infila in rete. Sette a zero. Il portiere Martin non aveva nessuna speranza. Il bel gioco continua. Colpo di tacco di schiaffino. E questo è il quinto gol. 6 a zero per l'Uruguay. Borges ha segnato il suo gol a sorpresa e ne arriva anche un altro. Eccolo. Il punteggio finale. 7 a zero per l'Uruguay. La Scozia è battuta. La Scozia è battuta. La Scozia è battuta. La Scozia è battuta. La Scozia è battuta.